guarda ma non compra ne compri una te ne danno due no è così il bleh in questo momento si può dire no blef che è un'altra cosa in questo momento si può dire brava black frid no 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 black friday era bene mi faccia fare brutta figura black friday black friday in questo momento si può dire friday friday quindi insieme black black friday dove andate dove andate dove andate non correte non correte dove andate addirittura addirittura effetto black friday effetto black friday good morning good morning my sir good morning Do you know that tomorrow is black friday? Come 152 am? No? No! No! I'm not talking in shadows, I'm not talking ative eyes Dov'è? 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 Mi ha lasciato a negozio, poi mi metto la cassa, poi mi metto la cassa, vieni qua, dove va? Facciamo sconti a tutti, il cinese mi ha lasciato il negozio, se ne è scappato il cinese, vabbè, allora, lasciamo qua, ti lascio qua, ti lascio gli sconti, ti lascio gli sconti, quando vieni qua, domani c'è Black Friday, anche da voi. Non capisco niente, capisco. Ma tu lo scontrino lo fai? Lo scontrino lo fai? Lo scontrino è la calda. Quando fai lo scontrino? Quanto compro? Non si sa. Una volta all'anno, magari. E domani, perché domani è Black Friday, domani è la sconto generale, ma lei dove fai i suoi acquisti? Qui, se trovo di bene, altrimenti vado in Via Sparano. Se non trovo di bene in Via Sparano, non è più Carastus, Via Sparano. E vabbè, c'è qualche negozio che si può. Ma in Via Manzoni prima c'erano un sacco di negozi. Certo, adesso mi sono girata, ha chiuso un altro negozio. Addirittura? Sì, uno che andavo, cioè andavo a vedere, era un'amica mia. Venga qui, venga qui, le faccio un regalo. Venga qui. C'è Black Friday? Carmi, va a te, fuori tutto e passa la paura. Non è questa, non è questa, mancano i soldi, mancano. Via Manzoni poteva far di meglio perché... La professoressa diceva a me, è intelligente ma non si applica. Il signo di vari, parla e parla, non fa niente. Esatto, è anche il sindaco, è mica il sindaco che può risolvere tutti i problemi. Il sindaco, il sindaco, il padre eterno. Ma secondo te chi può risolvere? Dimmi tu, il sindaco no, l'onorevole no, l'assessore no, ci può risolvere. Ho visto che il sindaco è passato sei volte e ha sempre detto no, verremo, faremo, facciamo, vediamo. Non ci ha mai fermato, è stato solo di passaggio. Sì, ha sempre detto però non ha mai fatto niente. No signora, ha fatto acquisti oggi? No. Ah, meno male, si è salvata. Non è un appuntamento. Ma è domani il Black Friday, non è oggi. Non vada di fretta, non è oggi, è domani. E i vigili, purtroppo qua hanno fatto tutto a pagamento e ci hanno pleffato. Va bene, la riguarda. Anche in via Manzoni, aiutiamo via Manzoni. Ma vede che stavo passando. Aiutiamo via Manzoni. Sto notando che è diminuito molto. Eh, diceva, è diminuito molto. Eh, ma anche, vedi, i vigili non ti danno... Tregua, respiro, niente. Non ti danno tregua. Mi ero messa accanto dove non davo fastidio fuori dalle strisce pedonali, mi hanno fatto spostare e quindi è tutto. In questo momento si può dire? Tutto quel che vuole può dire. Anche le parolocce. Cosa vuole dire? No, parolocce no. No, no, cosa vuole dire? La verità. E la DIC. Oltre che siamo penalizzati, anche dimenticati. Guardi là. Lo DIC. E la verità. Lo DIC. No, 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 non mi piace apparire però... Ma se domani mandiamo qualcuno con questo biglietto, il quotidiano italiano, glielo fate il 50%? Il 50% no. No, perché... Ma fino a quando possiamo arrivare? Ma perché noi non abbiamo una fascia costi. No, perché le dirò una verità. No, no, noi per andare avanti abbiamo preso della roba, una fascia di oggetti con il prezzo piccolino. Lo fate il Black Friday voi? No, perché già abbiamo dei prezzi bassissimissimi. Tipo, tipo? Tipo, la nostra merce parte da 5 euro. 5 euro? L'anticrisi da noi è sconfitta. Ma è cinese. Assolutamente no, made in Italy. 5 euro. Ecco, arriva il prezzo più alto, quale? 19, 29, un cappotto? Anche 12 euro. Quindi è tutti i giorni Black Friday qua. Qui è tutti i giorni Black Friday, bravo. Black Friday è? È una presa per il culo. No. Cioè, è un modo per... Un modo come un altro, per attirare la gente. Se ne inventano tutte. Tutte. Un modo per attirare la gente. 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 Grazie a tutti.